Sì, è un'iniziativa importantissima perché avvicina i cittadini a un luogo che spaventa, ci spaventa tutti, tutti abbiamo già avuto esperienza in prima persona o attraverso un parente, un genitore, un figlio di questo ospedale. Siamo sempre stati accolti con il sorriso, con un'estrema competenza e professionalità, però è anche importante arrivarci veramente non da pazienti, ma arrivarci come cittadini che stanno bene ma che possono essere rassicurati vedendo questa macchina che funziona, funziona molto bene e soprattutto vedendo tutto ciò che c'è al di là delle macchine, al di là delle strumentazioni che c'è di umano, questa enorme risorsa umana e mi riferisco all'infermiere, mi riferisco anche tutto il personale che ruota intorno comunque al mondo dei medici che è importante perché è un personale che sa anche offrirti oltre la competenza e la professionalità un sorriso, una carezza ed è fondamentale per chi sta soffrendo.